Punto il dito contro Roberta Roberta, ti giochi l'opportunità di andare al duello finale Laura, può solo sperare in un tuo errore A, B o C? A Vediamo la domanda corrispondente alla lettera A scelta da Roberta Come si chiamano in gergo i filtri di solito colorati che si applicano ai riflettori teatrali? Amaretti, confetti o gelatine? Gelatine E la risposta è esatta Resta in gara Roberta Dobbiamo salutare Laura Laura, la tua eredità va nelle casse di Andrea Grazie di aver giocato con noi Tanta felicità e uno splendido 2010 Grazie anche a te e a tutti quanti Ciao, grazie Ciao Laura Roberta e Andrea Andrea e Roberta Pronti per il duello finale E che duello sia